Ben Simmons Ben Simmons pronto alla prima stagione da protagonista . E proprio sul prodotto da Louisiana State si appuntano le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori, che solo 12 mesi fa pronosticavano per questo ragazzone australiano una carriera da predestinato, in stile Lebron James, paragone offerto addirittura da Shaquille O'Neal. . Una stagione passata a guardare i compagni crescere, a recuperare dall'infortunio e a migliorare nei dettagli, negli intangibles, le giocate che non entrano nei tabellini ma fanno vincere le partite. . Ecco perché Simmons ha una voglia matta di sgabbiare veloce durante la prossima regular season, principale attenzione di una franchigia divenuta intrigante grazie al tanking, e che può mettere in mostra un'altra prima scelta assoluta come Markel e Fultz, pescato alla numero uno dell'ultimo draft dopo una trade con i Boston Celtics. . 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 Il suo trust e process è ormai un segno distintivo di Philadelphia, e del process fa parte senza alcun dubbio anche Simmons, anche Joel sta migliorando, aggiunge l'australiano, mi sono allenato con lui prima di venire qui in Australia, e so quanto stia lavorando duro ogni giorno per tornare al top. Anche per me vale lo stesso, ma essere stato fuori un'intera stagione ha avuto i suoi vantaggi, ho avuto un anno per crescere, imparare e concentrarmi al meglio sulle cose da fare. Penso davvero che la scorsa stagione mi abbia aiutato, anche se devo ovviamente ancora migliorare, soprattutto nella conoscenza del gioco, nella capacità di segnare con continuità, in difesa, insomma in tutto. Poco più che ventenne, Simmons è già un punto di riferimento per molti ragazzi che si avvicinano alla pallacanestro, in particolar modo australiani, avere un camp a mio nome è fantastico, ne sono onorato, pronto a parteciparvi ogni volta che tornerò in Australia. E' la prima volta che mi capita una cosa del genere, e non vedo l'ora di aprire anche altri camps in futuro, non solo qui a Melbourne, ma anche nel resto del paese. Ho sempre voluto aprire un camp, in ba tutti i migliori giocatori ne hanno uno, mentre nessuno giocatore australiano ci era mai riuscito. Tornando a casa avverto una sorta di responsabilità nei confronti di questi ragazzi, penso di poter ridar loro indietro tutta la passione per il gioco, oltre a insegnargli tutto ciò che riuscirò a imparare nel corso degli anni. Per me è una benedizione essere in questa posizione. Qualche settimana, e Simmons dovrà a sua volta conoscere il basketball, in cui in tanti lo aspettano al barco con aspettative altissime. A lui il compito di non deludere le attese, trascinato dall'entusiasmo di una città intera, finalmente tornata a riconoscersi nei 76ers.